Salve con tutti i miei sentiti di Mila Baraccio, io sono qui alla Musica Expo Fiera qui a Roma naturalmente siamo venuti per un giro, ce ne saranno delle belle, naturalmente siamo qui per sbriciare se ci sono novità musicali, ci sono già un sottosfondo di musica, si suona la musica a poco, ma c'è musica ecco, siamo sempre qui alla Fiera Musica Expo, abbiamo un po' di tutto, qui c'è un'esposizione di chitarre di tutti i generi chitarre, eccole qui, fantastiche, adoro, devo dire ho voglia di prendermene una, fantastico queste chitarre sono veramente modifibili per tutti i gusti, ce ne ha di tutti i gusti è bellissimo, fantastico ne voglio una wow Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.